Ancora insieme per l'ultima parte di Buongiorno con noi in questo giovedì 2 ottobre 2014. Siamo arrivati alle notizie nazionali e internazionali, alla pagina sportiva. Cominciamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Si parla di politica economica, di politica europea. Strappo francese, la Merkel non ci sta. Parigi si ribella ai vincoli di bilancio dell'Unione Europea. Renzi intanto che dice rispetteremo i patti ma non bastano economia e tecnica. Il presidente Napolitano ieri ha detto che l'Italia supererà le sue debolezze. Il presidente della BCE insiste sulle riforme. Questo è il quadro alla vigilia proprio dell'incontro che si terrà oggi a Napoli. E poi c'è questa foto con quattro personaggi molto conosciuti. La cantautrice Paola Turci, gli attori Valeria Bruni e Antonio Albanese. Poi l'ex calciatore e allenatore Gianluca Vialli. Tutti nati nel 64. Nel 64 picco di nascite, oggi sempre meno. Poi vedremo più avanti all'interno del Corriere della Sera proprio questa notizia sul record di nascite che in Italia avvenne nel 64, contrariamente a quanto sta accadendo proprio ora. E poi il sindaco De Magistris, sospeso subito, resisterò in strada. A firmare la sospensione è stato il prefetto, ma ad annunciarla tutta Italia è il ministro Alfano. Il sindaco di Napoli De Magistris da oggi non lo è più per la legge, che così prevede per chi ha una condanna per abuso d'ufficio. Lui però ha detto farò il sindaco in strada. La politica italiana, pagina 5 del Corriere. Renzi ha più alleati e rilancia la politica contro i tecnocrati. Scatto d'orgoglio. Il PD ha più voti della CDU. Oggi sono stato tutto il giorno a occuparmi della legge di stabilità. Noi manterremo il vincolo del 3%. Il 28 ottobre al Consiglio europeo di Bruxelles mi presenterò con le carte a posto. Questo è quanto ieri ha detto il Premier, che però allo stesso tempo dice che ci vogliono le riforme e eventualmente a scontrarsi anche con la Germania per ottenere di più e per rilanciare il Paese, dice Matteo Renzi. E poi dagli esteri una notizia che già avevamo visto ieri, se ci avete seguito e l'avete sicuramente sentita insomma su tutti i telegiornali nazionali, armato in ascensore con Obama, ancora una clamorosa falla nella sicurezza del Presidente, la direttrice del servizio, perde il posto. L'incidente di Atlanta è avvenuto tre giorni prima di un altro clamoroso caso, rivelato questa settimana dal Washington Post. Il 42enne Omar Gonzalez, un veterano dell'Iraq armato di coltello, è riuscito a scavalcare la cancellata della Casa Bianca, attraversare il prato ed entrare nella East Wing, l'ala della residenza dove si trovano gli uffici della First Lady. A quel punto le dimissioni di Giulia Pearson è doloroso lasciare, ma è chiaro che il Congresso ha perso fiducia in me. Dunque la tanto stimata sicurezza del Presidente degli Stati Uniti che insomma in questo periodo davvero aveva sbagliato troppo e qualcuno ha pagato. Situazione sempre caldissima in Cina, la comune di Hong Kong, stiamo vivendo un sogno, il racconto di Ivan sembra il comunismo ma non quello cinese. Questo è l'articolo, il reportage firmato da Guido Santevecchi sul Corriere della Sera a pagina 15. Divertirsi non è l'espressione giusta, io dico che sono felice, siamo felici, dicono i ragazzi che stanno manifestando proprio a Hong Kong. La notte dei lacrimogeni i genitori sono venuti a cercarmi, racconta questo ragazzo di nome Ivan, non fare pazzie, gli hanno detto. Intanto appunto il clima rimane molto teso perché i ragazzi dicono se non ci ascolteranno occuperemo i palazzi. E poi a proposito di quella notizia che abbiamo visto in prima pagina, eccola qua. L'Italia è dei cinquantenni nati quando si facevano figli nel 1964, secondo i dati elaborati dall'Istat si è toccato il picco, proprio come ora siamo al record negativo rispetto al 2008, i nuovi nati sono 62 mila in meno e si prevede un'ulteriore riduzione. Culle vuote è una splendida cinquantenne. Il paradosso dell'Italia, apre l'articolo Margherita De Bac sul Corriere della Sera, l'Italia che nel momento in cui tocca i minimi storici infatti di natalità si scopre impegnatissima a festeggiare la cifra tonda dei cinquantenni. La Repubblica, Austerity, Parigi si ribella all'Unione Europea, l'ira della Merkel. In sostanza le stesse notizie che abbiamo già visto sul Corriere della Sera, Padoan che dice peggio del 29, Draghi serve uno sforzo da Ercole. C'è un piano del governo da 12 miliardi e mezzo di euro per la ripresa. E poi in Liberia, nel cuore nero di Ebola, questo è l'inviato di Repubblica proprio in Liberia dove la situazione è quella più critica. E poi l'altra vicenda che tiene banco in queste ore nel mondo, i ragazzi di Hong Kong che dicono dateci la libertà ai manifestanti che hanno preso come singolo un ombrello, il simbolo ormai della rivolta. Napolitano chiede all'Europa una svolta per la ripresa. Ieri faccia a faccia tra il capo dello Stato e il presidente della BCE in una cena appunto a Napoli prima del vertice che si terrà oggi. Draghi che ha spiegato è uno sforzo Erculeo. Davvero è una situazione difficile. Giorgio Napolitano chiede una svolta all'Unione Europea, anticipa che nel semestre di presidenza italiana il nostro Paese farà di tutto per spingere sulla sterzata, quella che insomma potrebbe essere in grado di far ripartire tutta l'Europa. E poi il reportage dalla Liberia. Tra i malati di ebola, nell'ospedale dell'orrore, il Paese sta morendo. In tutta Moravia ci sono solo 350 letti disponibili. I contagi sono in aumento. Ogni settimana 700 nuovi casi. Con la morte di 89 medici, le strutture sanitarie già pessime sono al collasso. Tra la popolazione cresce la paura e la collera. Contro il governo si temono disordini sociali. Perché il problema, come appunto sottolinea il reportage di Repubblica, è anche le condizioni in cui operano i medici che poi alla fine finiscono per ammalarsi loro stessi. Si torna in Italia, pagina 23 di Repubblica, davvero incredibile questa vicenda. L'Aquila, lo scandalo dei palazzi antisismici, usato legno scadente per i balconi crollati. È stata scoperta la fornitura fasulla di una delle ditte che hanno avuto l'appalto della costruzione nella New Town del governo Berlusconi. Forse lo ricorderete, il 2 settembre, dei balconi erano crollati nel complesso delle abitazioni antisismiche. Nessun ferito, ma paura e tanti danni. C'è stata appunto un'inchiesta, è in corso un'inchiesta, e è stato scoperto che il legno utilizzato era davvero scadente. La situazione potrebbe ripetersi anche in altre case, da qui l'attenzione è massima. A proposito di Ebola, che abbiamo già visto prima, il Repubblica parlava della Liberia, si parla anche della psicosi negli Stati Uniti. Dopo il primo caso, un altro sospetto, è un parente del malato, il paziente zero americano fu mandato a casa dei medici, e adesso anche 5 studenti sono sotto osservazione in isolamento. C'è il governatore del Texas che ha fatto una conferenza stampa, ha avuto contatti con molte persone, ha dichiarato. uno scala Bruxelles, prima di arrivare negli Stati Uniti dalla Liberia. Dunque davvero situazione non facile, lo sottolineiamo. E poi lo sport, siamo allo sport, cominciamo da quello che riguarda il territorio della provincia di Lucca, si parla della Lucchese, a pagina 8 del QS, l'inserto sportivo della nazione, stadio in concessione per i prossimi 8 anni, la società rossonera, in cambio di 20 mila euro a stagione, potrà gestire il Porta Elisa, ieri la firma ufficiale. Fra l'altro noi ne avevamo parlato, il Presidente Baccia aveva attaccato il Comune proprio per le condizioni di questa concessione, perché oltre al canone annuale la Lucchese dovrà anche pagare le utenze e poi la manutenzione del Porta Elisa e degli impianti dell'acquedotto, però alla fine ha dovuto cedere. Ci sono i vari risultati di calcio dilettanti, in particolare la Coppa Toscana in promozione, il Bagno di Lucca batte il Ponte Bugianese e dunque va avanti, in prima categoria Sporting Bozzano-Vorno 0-0, passa il Vorno, il 3-3 tra Pieve Fosciana e Piani Coreglia con l'accesso al turno successivo del Pieve Fosciana, questo per quanto riguarda la prima, in seconda avanzano River Pieve, Folgor Marlia e Barga, tutte vittoriose per 1-0. Sempre rimanendo a Lucca, GSM Gas via agli abbonamenti, oggi parte la nuova prevendita, tante soluzioni e agevolazioni per tutti, c'è grande attesa per la stagione delle basket Lemura, fra l'altro ormai manca pochissimo, sabato c'è l'opening day a San Martino di Lupari. Vediamo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, in apertura il calcio, con la sconfitta per 1-0 ieri della Juve sul campo dell'Atletico Madrid nella seconda sfida di Champions, l'Euro Juve resta al verde, i bianconeri non tirano ma in porta, nella ripresa Simeone li beffa con Arda Turan, Buffon perde l'imbattibilità e dice, per crescere bisogna osare, intanto nello stesso girone vince il Malmo, e così tutte le squadre sono a tre punti, dopo due turni, intanto per quanto riguarda gli altri italiani, non le italiane perché la Roma aveva già giocato, Immobile segna sempre, Balotelli affonda, Prandelli ne prende quattro, dunque fra gli italiani si salva solo il centro avanti, Ciro Immobile, Immobile e poi dicevamo di Buffon le sue dichiarazioni ieri, non ci sta per crescere, bisogna osare, ha detto il portiere che ha criticato l'atteggiamento della Juventus per il diploma Europa, dobbiamo rischiare di più. E poi per chiudere, vediamo la notizia che riguarda la pallavolo, il mondiale di volley, è un'Italia che vola a cuore tre punti, batte l'Azerbaijan, va più quattro sulla quarta, 2-7 in discesa con muro e battuta, il terzo di difficoltà e gran finale col riscatto della Piccinini. Andiamo a vedere la Centoni, la nostra portacolori nell'Italia, ieri ha giocato poco, cinque punti per lei, ma insomma è entrata anche di meno rispetto alle altre partite, ma insomma la di Acentoni continua a comportarsi molto bene. Prima di chiudere, questa notizia che abbiamo trovato, vediamo se riusciamo a vederla, notizia davvero molto particolare, molto curiosa, eccola qua, pubblicata dal messaggero, Super Enalotto cercasi disperatamente vincitore di 500 mila euro, si cerca disperatamente il vincitore di 500 mila euro del Super Enalotto Superstar di sabato 5 luglio ad Altavilla, Vicentina, in provincia di Vicenza, e fortunato non si è ancora presentato a riscuotere la vincita e ormai mancano solo due giorni al termine ultimo per la riscossione del premio fissato per venerdì, quindi domani 3 ottobre a 90 giorni dalla data dall'estrazione. Insomma davvero incredibile questa vicenda, questo giocatore che ha vinto, non lo sa, mezzo milione di euro e ha solamente 24 ore a questo punto per reclamare la sua vincita. Chiudiamo con questa notizia curiosa, molto particolare. Buongiorno con noi, se volete l'informazione ritorna fra pochissimo con la prima edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.